Buongiorno a tutti, siamo qui con le prime news riguardo le tracce uscite quest'anno alla maturità. Sono le 8.52, da circa 20 minuti la maggioranza degli studenti della nazione ha avuto accesso alle classi e alle tracce. Per adesso, secondo indiscrezione dei giornalisti, sarebbero uscite solamente, prese insomma pubbliche, le tracce riguardo le analisi del testo. E come diciamo assurdamente abbiamo fatto nello scorso video l'Allegria di Ungaretti e del Porto Sepolto, è proprio questa una delle tracce dell'analisi del testo, il Porto Sepolto dell'edizione del 42 dell'Allegria di Ungaretti. Invece la seconda traccia dovrebbe riguardare un autore che sinceramente non conosco. C'è Leonardo Sciascia. Sì, Corrado Stagliano, l'eredità del Novecento, che è di Stagliano e di Leonardo Sciascia, il giorno della civetta. Appena usciranno più notizie riguardo a questi autori potremmo dirvi qualcosa per adesso appunto. In realtà non ci sono altre notizie, non sappiamo neanche quali siano gli estratti chiaramente. E niente, vi teniamo aggiornati sul resto delle tracce nelle prossime mezz'ora.